Esco da gama e lui davanti E c'era Gianni E io così Buonasera Walk Walk significa cammina Io ho detto questo adesso con calci in culo No 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 walk Era anche Runaway walk Runaway walk significa per la sfilata Yeah just fucking walk Cammina Capito capito Senti mi consente di tornare un attimo nel mondo della moda Ho una curiosità mia Tua personale Sì essenzialmente Cioè secondo me Dimmi se sbaglio È il mondo della moda adesso Io non lo vedo più come prima A causa delle influencer Che sono un po' Allora c'è sempre Perché 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 Ogni Diciamo ogni epoca c'è un suo perché Non è a causa perché Diciamo che nei ultimi Da quando sono usciti questi benedetti cellulare Questi social Sono 15 anni Cosa sono? Sì più o meno È cambiato tutto Cioè una volta le top model Erano Sulle copertine Cioè si hanno Sono guadagnate Quel titolo Non perché erano figlie di Come Gigi ha detto Figlia di questo Ma Mouhamen O Kendall Il sorelle di Kardashian E quindi Una volta Sono guadagnate E oggigiorno Poi a parte che Non pagano più Non credo Budget ormai Perché nessuno vuole Non c'è più quella figura Essenzialmente E poi un'altra cosa Perché usano Questi Benedetti Tu non lo so Io non uso i social Quindi sono unica Tonta Perché non ho mai guadagnato Tramite i social Non me ne frega niente Però A quanto pare Girano un sacco di soldi Su questi social Fino a ieri Facevano le cose Completamente opposte Oggi Sono dei Influencer E poi chi sono? E quindi Credo che anche Quest'epoca Questa di adesso Deve cambiare Perché A parte che in America Adesso sono facendo Queste cose Che vogliono togliere TikTok Perché TikTok è cinese Quindi Siamo terminate Però Poi uscirà Che cosa altro Poi Adesso c'è Twitch Cos'è Twitch Ce ne sono tantissime Capisci E quindi Questi ragazzi GMZ Quelli ancora più avanti Ci sono nati Questo benedetto Questo maledetto Ci sono l'aria in mano Questi ragazzi Non hanno vita sociale Perché vivono Sui soli Ma la vita sociale Non è i soli Ormai il telefono È diventato una parte Del corpo Praticamente Non c'è Ecco E io questa parte Del corpo L'ho mandata a cagare I'm a telephone center Per chiamare E non giudico Quelli che fanno Non è mio giudizio Ma non ti senti Un po' fuori dal mondo Due volte Se non stai sui social Cioè ormai è diventata Una cosa No No perché guardo tanto YouTube E poi soprattutto Tutte le cose YouTube è un social E poi leggo Ecco bravo Ecco sono dipendente Da YouTube È l'unico abbonamento Che ho fatto È su YouTube 11 euro a mese Ben spesi Senza pubblicità Su Netflix E invece ho preso Quella pubblicità E mi hanno fregato Perché troppo Cioè Mi piacerebbe Com'era Chi era Gianni Cioè Com'era Questa epoca Ma ancora Non mi appartiene Scusate Mi hanno appartenito Così E ho detto Ah ma abbiamo sbagliato E tutto è stato Ecco Vedi Lì per esempio Quando si faceva Un casting Gianni Versace All'epoca Era Il dio Era Gianni Oggi Oggi non ci sono Le persone come lui Perché Gianni Veramente aveva Questa Energia Quest'aura Talmente Era Potente Poi anche Era Come disegnava Come creava Perché lui Faceva tutto Su lui Non c'è nessuno Quindi Lui usava Soltanto le top model E io ero New entry Perché avevo appena Diciamo In 96 Ho vinto Il Codier E quindi In 97 Ero appena cominciato Lì a cavalcare Stonda E È stata una cosa Come si facevano I casting Però lui I casting Non li faceva Perché le modelle Che si filavano Per lui Naomi Campbell Claudio Schiffer Tutte queste Top model E hanno già Avuto le copertine Quindi non c'è Però Lui era fissato Con i corpi E quindi Lui aveva Tipo una modella Che non stilava mai Per lui Però su di lei Faceva i suoi abiti Ok Perché lui Non usava manichino E quindi La mia agenzia Mi chiamò Però non me l'ha detto Mi ha detto C'è casting Perché pensava Per me Sono troppo importante Io non scendo Questi livelli Ok Come se Questa sua modella È stata poco bene E quindi Aveva bisogno Di questo corpo Statuario In quell'epoca Questo corpo Sarebbe Era così Era così E quindi Sono arrivata Però Dentro Lui In casa Di Gianni In una casa E avevo Dovevo andare in bagno Gianni non doveva vedermi Dovevano vedermi Soltanto i suoi collaboratori Quindi facciamo breve la storia Ok Moritz Stringi Vado Mi perdo In questa villa enorme Di 72 milioni Quella a Miami Comunque No Ah qui a Milano Quella a Milano Ok Vabbè Sì sì ho capito E quindi E finiscono Giustamente dove Nella camera principale Del padrone Johnny Versucci Che stava dormendo Su letto E io sto pisciando Il suo bagno Non mi sono Meneve ne ho accorta Che stava dormendo A un certo punto Probabilmente Ha sentito Questo mio Naturale Perché è una persona Tra bisogno Poi sciacquo Si lavo le mani Usa le mani Canticchio Esco da camera E lui davanti E c'era Gianni E io così Ha Buonasera Walk Walk significa cammina Io ho detto Questo adesso Con calci in culo Walk No 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 Walk Era anche Runaway walk Runaway walk Significa per la sfilata Yeah Just fucking walk Cammina Sì 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 E ok Dopodiché mi guarda E dice Ok Your book for tomorrow Domani Perché lui faceva Alle tre sfilata al giorno Nove Mezzogiorno E poi Alle No Alla mezzogiorno Alle tre Alle otto di sera Ok E si chiama Porta Potera E ti ha presa subito così Esattamente Io scendo giù Che c'era mio driver Non ho conosciuto Donatella Tutti E dico Mi sa che dobbiamo andare Perché domani devo sfilare E tutti così I miei E io Ma ok Ma cosa c'è Cioè Ero a questo Il punto Mi avete mandato Un casting Ho preso Cioè E poi dopo Ho saputo Questa storia Che lui E quindi Sono stata Tipo Sai Pecora nera Perché non conoscevo Nessuno E durante Le sfianate Nessuno Mi parlava Brute stronze Queste modelli Quando ripensi A questi momenti A quel periodo Della tua vita Ci ripensi Con felicità O con tristezza Ma perché con tristezza No Invece È stato un bel periodo Della tua vita Oppure no Quello volevo sapere Certo Assolutamente Perché io credo Che tutti i periodi Sono belli Anche con le sue Diciamo Ognuno c'è il suo cammino Un po' Turbolente E tutto il resto Però sai Non possiamo Sempre lamentarci A volte sì Possiamo Emozionarci Cioè Porta emozioni Però Si va avanti Spesso comunque Si sente dire Che il mondo della moda È un mondo difficile Sì Perché Quando cominci Ho cominciato 14 anni Da dire vero Però ho fatto Sempre avanti e indietro Ti stacchi Non è una infanzia Non è una infanzia Io mi ricordo Che ancora andavo a scuola Al liceo Al liceo Classico E durante il weekend Andavo Facevo delle cose E poi Il lunedì mattina Tornavo Senza di aver dormito E non è stato facile Poi non hai punto di riferimento Poi perdi anche le amicizie E tutto Però Questo è il prezzo Da pagare Certo Come pensi invece Stia lavorando Come pensi Sta lavorando adesso Donatella Ah Donatella Donatella Rimanendo sempre in tema Versace Ero curioso anche di sapere Amica di Fedez E lei vediamo sempre Insieme a Fedez C'è una storia C'è una storia Però sto YouTube Sempre mi arrivano loro due Infatti Sempre insieme Credo che sia separato Dalla moglie Non lo so Dice che c'è una storia Come Donatella E sempre insieme Lei piacciono Questi giovanotti Un po' faminati Non lo so Dai io non penso Dai Che ne sai tu